Io credo che tutta la difficoltà nella comprensione della situazione politica odierna sia nel fatto che le vecchie categorie esattamente sono saltate. Noi continuiamo spesso a muoverci del tutto in maniera ingiustificata secondo la dicotomia destra e sinistra, lega destra, 5 stelle sinistra. Quando in realtà è saltata questa categoria di unificazione del basso dei ceti nazionali popolari, lavoratori imprenditoriali rappresentati dal 5 stelle e dalla Lega contro l'alto delle classi della finanza, del capitale, dell'Europa, in alto. Mi fate finire, non riesco a sentire, sono in un po' di educazione anche verso il pubblico che ascolta. Chiudo dicendo che evidentemente il conflitto è così fatto per cui, stando così le cose, cercheranno i nemici del governo in ogni modo di spaccarlo anche ricorrendo a questa dicotomia destra e sinistra. È evidente che Forza Italia, io credo, si alliera con il partito democratico perché rappresentano da diverse prospettive l'interesse dell'alto. Del resto in questi giorni Berlusconi si sta producendo in un'infinita quantità di elogi sperticati dell'Unione Europea, cioè degli aguzzini che nel 2011 lo fecero cadere con un colpo di Stato finanziario. Non mi chiedono di tornare, diciamo, sul pianeta Terra, Tav o non Tav? Chiudo, 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 io sono totalmente contro la Tav, penso che non abbia una ragione di esistere. Chiudo dicendo questo, poi vi cedo la parola, chiudo dicendo questo. Lì si farà la nobilità del governo. Se saprà opporsi all'Unione Europea, riuscendo a liberare l'Italia dalla gabbia mortifera dell'Unione Europea come interesse delle classi dominanti europee contro i ceti lavoratori europei, tra cui quello italiano, allora saprà mantenere la propria promessa o se invece cadrà proprio su quel punto. Quello sarà il punto di rimedita. Adoro, adoro il sorriso del professor Pasquino dal quale arrivo. No, ma ci viene arrivato con l'amma aiuta.